Il mare di Vada 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 Allora, oggi vedi che ci sono tante persone al mare, come si sta? E' bene, l'acqua com'è? Se la sole non stava meglio! E' una televisione, Italia 1, Italia 1! Non ti farò vedere più! Perché? Via, via, via! Facciamo un'intervista alla signora! Ecco, vediamo un po' che lo supporterei, Italia 1! Che fa' Italia 1? Allora, l'intervista alla signora! E' un giorno in da proche! Allora, dopo, stasera, quando si va a casa, la metto a scuola!